E adesso devo anche abbassare il volume della tv perchè sennò la gestazione viene in aver a me Bentornati burdell nel mio fantasticissimo canale Siamo qua oggi tornati per che cosa? L'avete già letto dal titolo FIFA 15 ragazzi Me l'avete chiesto in tanti Lo stavate aspettando Lo stavo aspettando E oggi siamo qua nel sempre e innamoratamente FIFA Ultimate Team Ho aspettato voi per iniziare questo rotto sclero Perchè ho detto non posso farlo senza i miei bros Oggi noi andremo a giocare con la squadra dei bronzi marci Perchè bronzi o sbronzi a seconda E perchè insomma vediamo cosa succede Questa è la mia squadra ve la faccio vedere In porta abbiamo J.J. Carducci Nicolich Nemanja Questo qui ha il figlio Morison James Morison Cillian Morison Che non è Cillian E poi c'è lui Il prestatore Sven Luscher E poi c'è lui Daniel Cappelletti Un uomo in più Cool De Giorgio Crescenzi Ceccarelli Mattiello E poi iniziano anche i I fortoni Che sono riuscito ad acquistare con i pochi crediti che FIFA ci ha regalato Pensa a te Gagli Partiamo Con questa super formation Vediamo che cosa succede regas Vediamo Non lo so In ogni modo ragazzi Ditemi Nei commenti Posso dire un episodio 0 di prova Ditemi nei commenti se volete Partita per partita Quindi un video Una partita Eccola come se lo sente Ditemi Un video Una partita O un video Tre partite Nel senso Per Per magari accorciare i tempi Così io Mi gestisco meglio So cosa devo fare Senza troppi problemi Quindi ditemi nei commenti Un video Una partita O Un video Due tre partite Così magari facciamo prima Non lo so Ditemi voi Che cuore Sì ragazzi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Con la maglia dell'Empoli Ci siamo Ci siamo Io non so Lui che squadra abbia Però sicuramente Avrà una squadra fortissima Valutazione 64 Dai Dai Neanche troppo male Lasciate un like Per questa fucking Prima partita Di questo Oh Sto appena Sto appena Che si batte subito Attenzione Subito il cornwall Subito il cornwall È una tragedia Ragazzi Stiamo Uuuuh Madonna Brivido Solo Dopo tre minuti Di gioco Sì Come Sì come giochiamo Sì come giochiamo Che la scarichi Sì che la scarichi Sì che la palla è buona È bellissimo Nikolic Il figlio adottivo Di Nemania Vidic Non è possibile Una roba del genere Vergognatevi Cazzo Bellissima Lo vede dentro Caccio di rigore Caccio di rigore No Non me l'ha mica dato Gagli Sedicesimo minuto Cornwall Zero Main Engineers Zero Una occasione Per parte Attenzione La palla è lunghissima Saeed Chiude No non chiude Saeed La palla rimane lì Il bug E poi non esistono i bug FIFA 15 Abbiamo risolti i bug Eh Tua mamma ha risolti i bug Bisogna mantenere la calma Dai Dai Va là Porca miseria Fallo 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 Ragazzi Dai che qua ci vuole Pirlo Ce l'ha Pirlo Il nemico Ci prova A giro Nico Palla fuori Palla fuori Siamo sempre lì Sempre lì E può partire Può partire al volo Nico Oh mio dio Vicino al vol Subito gli ingegneri Che non si lasciano andare Saeed Vede il corridoio Uh Mamma mia Siamo scoperti come la muerte 45esimo Ragazzi questo è il momento Ragazzi questo è il momento Ma è il 45esimo Succederà qualcosa di negativo Tipo calcio d'angolo Finisce qua il primo tempo Cos'è diventato il calcio? Una giungla cazzo Ha dominato il corner Ora Un colice Può partire Morrison È partito Morrison È un mostro Non lo ferma nessuno Morrison 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 Mamma mia Un mostro Morrison Sale Tutta la squadra Hagen Palla dentro Mamma mia Oh E anche se Gli do dei soldi Sì che ripartiamo Sì con Morrison Sì con Morrison Sì con la Morrison Che se n'è andato Se n'è andato Morrison Ha visto Nicolich dentro Nicolich Ovviamente Lilian Turan Attenzione Qua siamo Scoperti come la muerte Come la muerte Lo più lento Quando ci si parte Di merda Guardali 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 Che cosa succede Ma che cazzo di gioco è Ma che cazzo di gioco è È Come lauta momento Nel È un mostro Se lo fa fuori È partito Morrison ancora è un mostro la palla è dentro non ci arriva nessuno ovviamente ci crediamo 71esimo almeno un gol della bandiera lo vogliamo fare attacco totale attacco totale attacco totale dico niente non diciamo niente guarda linee ladro questo che cos'è non è fuori gioco dai ma cos'è sta roba qui carducci salva la dagli altri ma che è che il monaco bellissimo side gira è bellissimo l'ottantunesimo prendi sta cazzo di palla ma dacci tua è incredibile ha segnato blarud blarud il thor fratello di philip hai segnato blarud 2 a 1 81esimo ci crediamo ancora 86esimo il tempo è denaro diceva ben gianni francky mamma mia nicolich 88esimo ragazzi siamo ancora lì lasciate un cazzo di life per questo cazzo di recupero che che non c'è che cosa è successo no madonna il clero ci siamo mangiati 2 a 2 finisce qua 2 a 1 non abbiamo giocato neanche troppo male per la squadra che avevamo bug enorme va bene e ad ogni modo ragazzi ditemi cosa ne pensate ripeto sempre ditemi se volete un video a partita e una partita a video o due o tre partite a video così io mi regolo e questo era l'episodio zero dove vi presentavo la mia squadra di bronzi sbronzi spero comunque di avervi strappato un sorriso che vi sia piaciuto il tutto come sempre lasciate un like e un commento iscrivetevi al canale se non l'aveste già fatto detto posto da near the engineer è tutto ci vediamo al prossimo video ciao